oh cristoidio contenuto per youtube non l'avevo visto stavo sdraiato nel chill siamo contro il caidop e astral che stanno in team insieme un campione europeo rlcs con tre volte campione del mondo rlcs mi sono cagato addosso madonna astral è uno skill una skill allucinante ora lo vedrete quanto è clean ok vado io ci penso io tranquilli chi è bampato no mi scliccato no no sbagliato sbagliato andiamo dietro io ho paura ragà perché la scorsa stagione caidop era tipo 2300 mmr occhio astral attenzione posso bampare caidop si madonna ragazzi sono troppo troppo smart troppo intelligente facile allora astral e caidop contro mamma mia da quando da quanto non trovavo due pro così mamma mia in team super passaggio e ovviamente il mate la chiude mo deve fare il più gol possibile a cazzo di cane proprio perché questi se si impegnano un attimo ci fanno sei gol in un minuto andiamo dietro finita svim ti prego vai bampare astral madonna astral comunque siamo troppo clean sembra che giochi un altro gioco allora ce l'ho anticipiamo ma astral niente ci ha parato benissimo no no occhio che quello parte occhio mamma mia quanto no no la vedete è troppo bello astral palla in mezzo pre flippino mamma mia questa mano che fa sognare tutti maschi e femmine caidop pre flippato in bocca raga dai io ho fatto al meet 3 assist su 3 praticamente mamma mia il king di rocchetti liquidare a mani basse 100 di boost aspettiamo con calma dai mateos fammi dire un po come difendi bene oggi ok dopo bel passaggio che mi sta lagchicchiando mi sembra no ok il ping è normale sono il mio pazzo bravo mate dai basta qua mateos bello questo flick inutile completamente astral chi vuoi flickare tu? dai però nessuno mi ha guaguato cos'era quel controllo palla si vede proprio che la fissa non la vede da anni bel mateos mannaggia e palla in mezzo per noi sbim bravo non ci credo ok dopo vai a dormire finta godo 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 non è no astral la segna colpa mia colpa mia mi assumo le mie responsabilità sono un trimone avvento devo riusciare prima sono un goglione seguiamo al kick off 3 a 1 per noi occhialare puntata sono un cretino purtroppo quando uno è cretino è cretino me lo devo ammettere madonna che regalo avevo fatto meno male che la palla sia alzata meno male bravo astral ti vado a bumpare non mi rompere le palla ti bumpo niente vai mateos please eh mo finta per astral buono buono sbagliato sbagliato infatti mi fermo proprio non uso più il busto va a fanno di niente l'area diretto all'indietro non fa niente va bene così occhio che dopo attenzione ce l'ho raga stanno iniziando a piccare di lancia la faccia oh grande parata di astral il king andiamo piano piano back aspettiamo con calma di fare un piccolo controllo alto appena questo push a godo posso fare un piccolo da volta a pino e mezzo niente mi intercetto l'ok poi andiamo back allora perché mi sembra la ghicchiare non capisco so pazzo io evidentemente o i server stanno andando a puttani vabbè ragazzi il busto a 100 non ce l'ho mi sa che è gg fuori è un bel passaggio per k-dop di là il busto è spanato quindi se mi serve devo andare lì k-dop lo aspetto che tiri parata super facile e azdralmo vabbè devo pregiamparlo per forza gg si va avanti poi oddio vedete le coglioni ci penso che il king di banale mi preoccupare mamma mia era partito un princess forse 3 a 2 che dire ragazzi siamo delusi siamo delusi e tristi chi cofino contro azdral bravo mate stravinto il fifth dunque lagga un sacco non so il motivo sti fifth di merda quanto li vedo in ritardo beccati sto sbim tete andiamo di oh calma è impazzito spezziamo un signor mateos no che culo non ci credo ora su ora flammeranno di là per forza se non sono no vabbè guarda che culo ha fatto mateos ah ok non è culo ok ok pensavo avesse fatto un mega pinch strano ok bravo allora ci facciamo un grande kick off beccati questo sbim no andiamo dietro bump dai il busto era mio ma che dici pazzo farà l'incredibile prego lo stesso godo ragazzi astral non sa tirare in porta sa solamente fare tre reset di fila ma non sa tirare in porta occhio keidop eeeh dietro dove vai 46 di busto io per jump non ti preoccupare appena clicchi per jump ti accederò ah diciamo vabbè mateos comunque è troppo forte mateos big carry per lui ora passi in mezzo tiri ma astral ma astral ha solo meccanica comunque non sa fare niente boh hanno guittato allora non mi è piaciuto come ho giocato perchè devo giocare meglio nonostante i primi tre gol che ho fatto fare io al mate mi ricordo il bump in cui due assist boh non mi è piaciuto in generale non sono stato molto bravo in difesa però porta bene il culo al 2 pro e gg un bacione allora chi abbiamo qua 2v2 eeeh ooooh contenuto per youtube siamo in squadra con il signor just come controvella e virtuoso virtuoso l'ho avuto anche in squadra però non ci ho fatto il contenuto perchè alla fine voglio dire una cosa i contenuti non sono ogni volta che trovo un pro ogni volta che sto nel mood giusto ogni volta che pen reputo che sia una bella partita una bella lobby sia gli avversari i compagni tutti lo metto su youtube se no raga potete passare su twitch a guardare queste partite in diretta ogni giorno perchè secondo voi incontro così pochi problemi io li incontro tantissimi però non li metto tutti perchè molte volte sono gli stessi molte volte magari c'erano in squadra e magari contro non sono abbastanza forti e quindi vinciamo troppo facile cioè deve esserci una bella partita e questa su me sarà una gran gran partita nel link in descrizione trovate sia il twitch che il instagram e tutto instagram tutti i mandi social vai just come andiamo a vincere partiamo benissimo aspettiamo con calma il signor virtuoso 100 di boost ce l'ho dai virtuoso complimenti a te complimenti olé posso fare un grande sbim ehi e piano piano 100 di boost ce l'ho occhio just come ah ho visto un side flip molto molto sforzesco qui e ci facciamo uno che chiede scusa a questo bella perchè flammi no bella bella perchè ha scritto il mio compagno che ho fatto che abbiamo fatto di male per meritare questo forse si è flammato con lui qualche partita fa va bene dubbio si gode aspettiamo il signor virtuoso con molta molta camera questo è facile per una difenda tranquilli può solamente fare una cagata se vedi al posto ci vengono giascano buono bampato virtuoso un pochettino dove sei bravo kama bravo uno oh no eh ragazzuli vi dico che adesso non è più così divertente questa partita ok retropassaggio involontario dunque bampiamo su strunzi niente grande giascano aspettiamo ancora bella dovrebbe avercela regalata forse niente fa voler la voltaccia vai va tre minuti e trenta al termine non abbiamo creato mezza occasione da gol l'ho già fatto qua tutti li portano i zero bampato l'uno andiamo dietro piano piano cento di boost devo girare e tirarla altissima allora diciamo che beh non l'ho anche tolta il mio compagno di squadra benissimo mi dispiace scusami purtroppo sono un po' deficiente e andiamo dietro dopo 5 vettori di fila io l'ho sempre detto che arrivava la sconfitta facile aspettiamo ancora bella passa passa non ti preoccupare che culo di tocca non vai a dormire per favore virtuoso non push fatti fatti tu ma perché push chi sei irlandese del cazzo ma ti affano a birretta e non mi rompere i coglioni ancora cento di boost posso andare io perché bella mi fa una sega spim vai in mezzo per birretta birretta vai tira ma poi me la piange però ragazzi non un boost birretta andiamo dietro piano 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 cento di boost ok ce l'ho visto dovrebbe essere 2 a 1 c'è veramente ho preso lì l'incrocio pieno proprio pieno 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 c'è proprio là ma chi te è molto bravo non possiamo perdere contro la birretta del cazzo allora kick off contro birretta main ci facciamo un grande kick off lento ah bello questo è stato bellissimo questo kick off mi è piaciuto andiamo back ci penso ancora virtuoso grazie per il passaggio virtuoso è stato gentilissimo bella quando è dal muro godo sono i due sono i due ragazzi devo buscare un altro ottimo ce li siamo alla madonna ce li siamo lì sci no qua prendo i boost da 12 posso fare un piccolo fake e olì ancora cento di boost aspettiamo bella ok via e ancora 2 a 2 dai vabbè però posso dire che abbiamo una sfiga allucinante dai prima incrociamo questa cosa ma per favore vuote che segnano così loro ma non mi rompete le palle vai a dormire virtuoso per favore ah rotto i coglioni andiamo piano piano back siamo ancora 2 a 1 il boost l'ha preso questo trimonazzo ah ha preso anche l'alio colpa mia ragazzi non devo fare niente avevo bisogno di boost non devo andare a prendere quello va bene mia mia occhia alla botta ci facciamo un grande occhia alla botta vediamo un po' l'occhio alla botta sforzesco per noi bump 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 via vula raga che bump vai open non ci credo non ci credo raga se non è gol questo babbo dai birretta del cazzo abbiamo fatto una bella gio vabbè io non ho veramente parole comunque boys per descrivere quanto siamo sfortunati sto game per favore tira ancora un altro palo ovviamente se no non siamo contenti la sagra dei pali sto game birretta di merda poi qui tu e il maltese che non sei altro poi l'altra è di malte amo per favore possiamo perdere contro uno che è nato a Malta per favore no scherzo vabbè che dire comunque boh una delle più grandi sfige della storia non lo so che cosa sia successo questo game tutti tutti i santi si sono allineati si sono alleati contro di noi si sono schierati proprio contro non possiamo segnare e poi segniamo questi gol di merda vabbò ci facciamo un grande grande follow vediamo il signor birretta se riesce a seguire bene ok in realtà male non è la palla ce l'ho easy esatto che balzo di merda dal muro ovviamente perché se no non è contento posso buffa pure Bella no questo qua tanto non la segno ragazzi non la segnerò mai c'è stata virtuosa 4 a 3 birretta non l'ha parata molto 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 bene molto 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 bene kick off proprio contro mister birretta ah non vero l'altro ok il maltese ha fatto un grande kick offino vai Kama butta avanti butta avanti tanto il busto ce l'hai l'hai preso bravissimo Bella me la passi quando tutto sembrava perduto iniziamo forse a giocare adecentemente ce l'abbiamo fatto 12 tiri loro 6 ti pare che possiamo stare 4 pari bella bole più del pallone peggio di un di un diamante 1 virgiliano ci facciamo un grande kick off sforzesco lento a sinistra godo vai 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 100 di boost che rank di malati mentali mamma mia ragazzi dei malati mentali io l'ho sempre detto e sempre lo dirò chiunque sta SSL ha qualche problema qua e anche io mi ci metto in mezzo anche io se io non sto bene con la testa ma questi stanno peggio di me perché hanno abbandonato ma perché sono proprio stupidi ora io non ho davanti parole cioè io non ce la faccio non ce la faccio io ogni volta che gioco questo queste rank io impazzisco a presto a loro questi non stanno bene forza veramente un bacio Benny mi fotte qua palese ok vediamo un po' se riesco a fare sto preflippino niente mi ha bampato mi sono fermato per fortuna così non mi ha potuto ribampare ragazzi volete vedere un po' come facciamo 7 a 6 questa clip finisce alla fine del video su youtube si gg rimonta da 6 a 2 a 7 a 6 proprio facile 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 resettino più preflippino alla fine let's go gg bel game